Il suo figlio Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post, ha deciso di non pubblicare un post di Laura Boldrini, l'ex Presidente della Camera, in cui si parlava di violenza alle donne, era il giorno contro la violenza alle donne, e c'erano tre righe dedicate a lei e al suo articolo. Lei l'avrebbe pubblicato? No, l'ho pubblicato. Io l'ho pubblicato su Libero. Io l'ho messa la lettera della Boldrini, perché io me la frego dalla Boldrini. Quello che dice la Boldrini non mi fa neanche solletico, non mi importa niente, perché credo che sia un'opinione totalmente fuori luogo, un'opinione di cui non tenere conto. Quindi l'ho pubblicata per dimostrare che io non ho paura della Boldrini e delle sue stupidaggini. E gli ho risposto, credo a tono, e sono soddisfatto di quello che gli avevo detto. Quindi, a parte invertita, se la Boldrini avesse scritto il suo figlio, lei avrebbe pubblicato tranquillamente? Ma io avrei pubblicato e naturalmente avrei fatto la Boldrini un mazzo tanto.